Leonardo, il quarto podium, una buona raccoglione, una buona battaglia. Sei piaciuto con questo risultato? Sì, sono davvero piaciuta. Nel ultimo lapso non credo che sarei venuto. Ma ho scoperto in Corley Kart con Cristian Blandino. E' incredibile quanto l'interno era, e ho ancora fatto. Abbiamo avuto molti podiumi durante la squadra, la finale finale. E questo podium, magari la victoria? Sì, William e Lorente stavano spaventando. E' difficile da continuare. Ma avevamo ancora una scuola, ma ero troppo vicino. Quindi ero troppo vicino con il terzo, o il quarto. Quindi ero troppo vicino con il terzo. Grazie a tutti per il podium. Grazie mille.